I 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno redatto un programma di sviluppo sostenibile suddiviso in 17 punti. Tra i vari obiettivi da raggiungere in ambito ambientale è di estrema importanza quello del risparmio e riutilizzo delle acque dolci. Di questo Starplast ne ha fatto la sua mission. BioBlu è un innovativo serbatoio di accumulo da interno realizzato in poglietilene come gli storici impluvium dell'antica Roma modernizzato con centralina per la gestione e il recupero delle acque piovane. BioGrigio è un sistema di recupero e riutilizzo delle acque domestiche saponate che con un sistema di filtraggio a ultrafiltrazione a membrana è possibile recuperarle a scopo non potabile per WC, lavatrici, giardino e tanto altro. In Italia, come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, il consumo pro capite di acqua potabile all'interno delle singole abitazioni è di 220 litri al giorno. L'installazione di sistemi BioBlu e BioGrigio permette alle singole famiglie di ottenere un risparmio idrico anche superiori a un 50 per cento di acqua potabile. Oltre al notevole risparmio economico per le famiglie si otterranno grandi benefici in termini sociali come la riduzione dei costi di potabilizzazione, la riduzione dei sovraccarichi nelle linee di distribuzione e non meno importante la qualità delle acque potabili. Starplast da sempre ha puntato su prodotti innovativi per funzionalità, dotandole anche di componentistica di primarie aziende nei suoi sistemi completi. Lo scopo è quello di agevolare e semplificare le operazioni di installazione e manutenzione. Per far conoscere le particolarità dei nostri manufatti e dei nostri sistemi risulta necessario confrontarci continuamente con gli addetti ai lavori. Attraverso i nostri distributori e il nostro app itinerante abbiamo la possibilità di incontrarli e di avere un confronto diretto con loro.